Un farmaco antidiabetico ha dimostrato di poter ridurre sensibilmente la gravità e la mortalità dello scompenso cardiaco, con frazione di eiezione ridotta, sia nei pazienti con diabete sia nei pazienti non diabetici. Stiamo parlando del DAPA-Gliflozin, un farmaco che apre una nuova era nella cura dello scompenso cardiaco. Ci siamo fatti spiegare i dati dello studio DAPA-HF e il suo impatto nella pratica clinica da un esperto, il professor Agostino Consoli, che abbiamo incontrato a Barcellona al congresso europeo di diabetologia. Il diabete è una malattia sistemica che comporta numerose complicanze, le principali a livello del cuore, dei vasi e dei reni, tra queste anche lo scompenso cardiaco. E' così? Certo, noi siamo abituati a pensare alle complicanze cardiovascolari del diabete principalmente per quello che riguarda le complicanze ischemiche. Ma è vero che il diabete espone anche al rischio di scompenso cardiaco e che lo scompenso cardiaco è due o tre volte più frequente nei diabetici che nei non diabetici. Sono stati presentati qui a Barcellona i risultati dello studio DAPA-HF che mostrano come DAPA-Gliflozin migliori l'outcome nei pazienti con scompenso cardiaco sia in quelli diabetici sia nelle persone che non ne soffrono. E' così? Quali sono questi dati? Certo, questo è un dato ultimo, recente e rivoluzionario perché per la prima volta assistiamo al fatto che una molecola sviluppata per trattare il diabete mostra degli effetti importanti su una patologia alla quale i diabetici sono esposti più frequentemente, per la quale i diabetici hanno un rischio maggiore ma che non è legata direttamente a glicemia. Per cui la novità dello studio DAPA-HF è che la popolazione era costituita da soggetti con scompenso cardiaco, avevano una ridotta frazione di lezione ventricolare, in media erano anche abbastanza avanzati come grado di scompenso e sono stati trattati con DAPA-Gliflozin, metà essi erano diabetici e metà non erano diabetici. Il risultato è che sia i diabetici che i non diabetici si assiste ad una riduzione importante, 25%, quindi un quarto di riduzione del rischio di sviluppare peggioramento di questa situazione di scompenso cardiaco. Quindi morivano di meno, quindi avevano meno episodi di ospedalizzazione dovuta a scompenso e quindi in essi, quelli che erano esposti al farmaco attivo, c'era anche un ridotto bisogno di utilizzare ulteriori farmaci per trattare lo scompenso. Questo penso che sia un dato di grandissima portata perché estende l'utilizzo di questa classe di farmaci che sono sicuri e che sono facili da usare ad una popolazione, ad una patologia, lo scompenso cardiaco, verso la quale le nostre armi farmacologiche non erano poi, non sono poi così vaste e così importanti e i dati di riduzione del rischio di peggioramento che si vedono nel DAPA-Gliflozin sono dati veramente importanti e di grande ampiezza. Qual è il meccanismo d'azione di questo farmaco? Perché viene usato nel diabete? Quali ipotesi possiamo fare per la riduzione del rischio di scompenso cardiaco? Per quello che riguarda il diabete il meccanismo d'azione è abbastanza semplice anche se counterintuitive direbbero gli americani. Noi eravamo abituati a diagnosticare il diabete dalla presenza di zucchero nelle urine, l'uso di questi farmaci aumenta l'escrezione di zucchero attraverso il rene, quindi sostanzialmente peggiora la glicosuria ma togliendo il glucosio dal circolo e buttandolo nelle urine favorisce la diminuzione della glicemia, favorisce anche la dispersione delle calorie, quindi soggetti per dono peso, favorisce l'eliminazione di acqua, quindi migliora il regime pressorio, migliora il volume circolante e questo si traduce di per sé in un miglioramento di funzionamento della pompa cardiaca. Nel non diabetico il ragionamento è più ampio, più sottile e più complesso. Dobbiamo ricordare che questa pompa che viene inibita dal Dapagliflozin è una pompa sodio-glucosio, quindi trasporta non solo il glucosio ma anche il sodio insieme. Quindi se io inibisco questa pompa quello che succede è che riassorbo anche meno sodio e rimodulo in una maniera molto efficiente il metabolismo sodico all'interno dell'organismo e questo si traduce di nuovo in una riduzione della pressione sicuramente, ma anche in una ridistribuzione dei volumi che facilita una migliore azione della pompa cardiaca e specialmente nella pompa cardiaca stanca come quella dei soggetti con scompenso cardiaco fa in modo che il deterioramento vada avanti in maniera meno veloce e quindi riduce il rischio. Poi è verosimile che ci siano una serie di altri meccanismi che sono allo studio, è possibile che ci sia un'azione diretta a livello del mio cardio, è possibile che ci sia un'azione indiretta sulla composizione della miscela metabolica che i miocardiocidi vanno a bruciare, ma questi sono interessantissimi spunti di studio e di riflessione, non abbiamo ancora un dato solido che dimostri il coinvolgimento di questi meccanismi nel beneficio clinico che però non si può nascondere, è lì lampante, la luce del sole ed è di una portata veramente importante. Un altro dato importante che viene dallo studio d'APHF è quello sulla qualità della vita dei pazienti, ce ne parla? Certo, allora se io ho un farmaco che migliora il mio rischio di sviluppare i denti connessi con la mia patologia di base, lo scompenso, è anche abbastanza intuitivo che stia meglio. Lo scompenso cardiaco quando è di grado 2 o 3 è anche una patologia fortemente invalidante, i soggetti non riescono quasi a camminare, hanno difficoltà a fare pochi gradini in scale, ha un impatto forte sulla loro esistenza quotidiana. Ma a parte questa riflessione diciamo di ovvia quasi, nello studio d'APHF è stata fatta anche una sistematica analisi della qualità di vita attraverso un questionario, uno score basato su un questionario validato in particolare per misurare, se vogliamo dire, la qualità di vita nei pazienti con scompenso, quindi è uno strumento psicometrico appositamente disegnato per i pazienti in queste condizioni e di conseguenza sufficientemente reliable, affidabile. Bene, c'è un miglioramento importante della qualità di vita nei soggetti trattati con farnacottivo verso quelli esposti a placebo, il che dimostra che sostanzialmente i meccanismi fisiopatologici che portano ad un miglioramento complessivo del circolo non soltanto sono clinicamente evidenti nei numeri che vediamo sull'outcome, ma vengono anche rapidamente percepiti dal paziente che fa questa terapia. Non ci dimentichiamo che se osserviamo alle Kaplan-Meier, le curve di rischio nei due gruppi, queste divaricano molto presto, a tre mesi si vede già un'importante differenza, questo significa che sostanzialmente se io con scompenso oggi comincio a assumere il farmaco, dopo un mese già percepisco a livello soggettivo un importante beneficio.